Nuova visita delle scuole al Consiglio regionale, nell'ambito del progetto percorso di cittadinanza attiva. Ospiti questa volta gli studenti dell'Istituto Alberghiero Gasparrini di Melfi, che hanno consegnato al Presidente Santogirico un documento sulla promozione dell'accoglienza degli immigrati come indicazione per la stesura di una proposta di legge regionale. Prendendo come riferimento l'articolo 3 della Costituzione, i ragazzi, dialogando con il Presidente del Consiglio regionale, hanno proposto una riflessione sul concetto di uguaglianza e hanno sostenuto l'importanza dell'integrazione attraverso un preciso percorso formativo. Il Presidente Santogirico ha invece sottolineato l'opportunità che l'immigrazione può rappresentare in una regione piccola come la Basilicata. Possa essere l'integrazione una leva di crescita culturale e sociale. E in Basilicata io credo che noi abbiamo bisogno anche di crescere demograficamente.